Questa è solo una parte della mia libreria e visto che l'avete voluto voi prendo uno di questi libri e cominciamo a parlare di quello che c'è qui. Questo è un libro dedicato all'autore del piccolo bruco Maisazio, un autore e un illustratore molto molto interessante, faccio uno zoom per farvi vedere qual è la tecnica di Eric Carle che utilizzava principalmente il collage, collage con carte che lui si faceva da sé, quindi dipingeva la carta, si creava la carta decorata e si faceva gli strumenti per la sua illustrazione, per le sue illustrazioni, guardate che meraviglia di colori. Tratta di un libro per i grandi che io ho trovato tra l'altro solo in inglese, per i grandi nel senso che non è un racconto ma è proprio la storia della sua vita, la sua biografia. Lui è nato in Germania, del motivo per cui io penso che si dica Eric Carle con l'ai finale, ma correggetemi se sbaglio. Comunque sia poi ha vissuto anche negli Stati Uniti ed è famoso a livello internazionale. Il motivo per cui ho comprato questo libro, fra le altre cose, è anche perché mi piacerebbe approfondire questa tecnica di collage molto particolare, che in realtà ho già provato delle volte, eccolo qua, il piccolo Bruco Maissazio, per proporla in qualche tutorial. Guardate che meraviglia questo, ecco queste carte qui realizzate dall'artista sono una meraviglia secondo me.